Una nota canzone diceva notte prima degli esami e per l'Italia, una parte dell'Italia, oggi è il giorno della ripartenza, la ripartenza della scuola. Dopo sei mesi di lockdown terribili in cui si è dovuti combattere e ancora tuttora contro un virus che non accenna a lasciare le nostre regioni italiane. Si riparte tra mille difficoltà, incertezze e molte polemiche. Conte e Alzolina hanno fatto a gara per cercare di mantenere la calma e la responsabilità che adesso deve arrivare da studenti, genitori, docenti e personale scolastico e presidi impegnati in un anno che inizia molto particolare. Si riparte oggi per la Puglia, lo sarà tra una settimana, il 24 settembre, con l'auspicio che per davvero si possa andare a una ripartenza piena. Buongiorno e benvenuti a World News 24. Avete visto la nostra copertina di apertura dedicata al ritorno a scuola dell'Italia dopo sei mesi terribili in cui il lockdown ha fatto la differenza. Tra poco la campanella suonerà in molte scuole italiane. Per la Puglia la ripartenza è prevista per il 24 settembre, ma ovviamente le volevi che non mancano il servizio.